Anche Diego Armando Maradona Junior ed il pivò dello Stuni Basket Mimmo Morena tra gli ospiti di eccezione che hanno preso parte ieri all'inaugurazione del centro polisportivo di Anolandia. Oltre ai tanti ospiti presenti a tagliare il tradizionale nastro è stato il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. L'impianto sportivo polivalente realizzato dal comune di Teggiano grazie ad un finanziamento della regione Campania e affidato in gestione alla polisportiva Amici dello Sport rappresenta una struttura innovativa che si candida ad offrire tante opportunità ai giovani e meno giovani appassionati di sport nel comprensorio valdianese. Dianolandia è infatti allo stesso tempo un centro sportivo polifunzionale dove si potranno praticare calciotto, calcetto, pallavolo, tennis e pallacanestro ed un'area parco per bambini. La struttura inoltre è dotata di un'area wifi ed uno snack bar. Un sogno che inseguiamo da tre anni con Alberto Lamaida, Francesco Giordano e Pamela Babbino ha sottolineato il direttore sportivo dell'impianto Melissa Babbino. Finalmente diventa realtà. A Dianolandia tutti potranno praticare diversi sport in un clima allegro e familiare e dove i giovani potranno fare quelle esperienze uniche che lo sport offre.